Tarsia Studios, oh, ci siamo ragazzi eh, ma attenzione, attenzione, vai questo è il vostro momento Mamma mia Oddio sono emozionatissimo Nulla dura per sempre Ma do quanto è Little Nightmares raga È proprio loro Oddio Chi se ne frega del treno, l'hanno fatto comunque Guarda che bello Madonna No raga, guarda che bello Tipo spiaggia dico No, è incredibile No, no, è bellissimo ragazzi, non me lo immaginavo così Ok, ci stanno degli elementi abbast... no, no ragazzi, no, è incredibile È proprio Little Nightmares semplicemente fatto... no, non ci posso credere Sempre con la coop, però sicuro che non puoi stare con un amico Fatta bene Quando esce... no, una data, ti prego Ti prego, non sono mai stato così per un gioco praticamente Guardate la descrizione già Guardate già la descrizione Un fratello e una sorella Vanno attraverso l'inferno Potrebbe essere metaforico Considerando che è minuscolo Per Aiutare i loro amici In una terrificante avventura horror Purtroppo E questa cosa è lo stesso errore Per giocarle in solo Local O coop Anche qua un po' di paura Vi dico la verità Perché L'uno E il due, scusatemi Ha effettivamente il companion sempre presente Ma tutte le animazioni Quando ti suggerisce dove andare Quei piccoli momenti che hanno tra loro due In cui magari c'è un'esitazione dell'altro Vi ricordate quando tipo Six si va a scaldare Quando bruci il medico Le perdi Le perdi se l'altro tizio è uno che cammina Questa è una cosa molto Molto seria Purtroppo Spero che Per me che lo giocherò da solo Abbia quella cura che aveva Little Nightmares 2 Cioè capisco che ti viene sempre È chiaro Hai costruito un'esperienza In cui c'è sempre un companion Ti viene Anche solo come Punto per Selling point Per le persone di dire Vai È un gioco co-op Giocatelo Perché? Perché It takes two Ha vinto Un godi Lo puoi vendere in quel modo lì No? Però è tanto importante Sapere la cura che c'era Cioè vedere la cura che c'era In quella co-op Non effettiva Di Little Nightmares 2 Capito? Erano molto importanti I gesti tra loro due Quando gli tiene la mano Quando trovano il cappotto Ci sono un sacco di momenti Incredibili di quel gioco Quando Six viene rapita Dallo shortman Eccetera 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 Eeeh Non lo so Ecco Sapendo che loro hanno fatto Quello prima Io spero tanto che Later solo Cioè la running solo Sia con quel Con quel feeling Mi piacerebbe vedere Delle recensioni Che escono Anche se ovviamente Mi piacerebbe giocarli In anteprima come tutti Ma tanto non andrà così Io giocherò al day one con voi Sapere che Magari capito I recensori Consigliano di Giocarlo da solo Però secondo me altrettanto Chi si è mai lamentato Che in Little Nightmares 2 Non c'è la coop Non voglio dire È un coglione Ma non ha capito il gioco Completamente Non ha capito il gioco Completamente Al di là di questo Anche perché ora Analizzeremo poi I vari momenti Che ci propone E questa valutazione La faremo Eeeh Non lo so Cioè Uno se lo può rovinare Giocandolo con qualcuno Perché l'atmosfera cala Si fanno battute Si ride I giochi horror in coop Raga Solo se hanno quella Volontà proprio Di essere umoristici Perché se no Come fai È troppo È troppo Un'esperienza immersiva E seria Mettertela a rischiare Perché ci metti Una persona di fianco a te E iniziate a fare le battute E iniziate a Scherzarci sopra È È finita È finita purtroppo Va benissimo In certi giochi Fasmafobia Per dire Cioè ok Ma non qui Non qui Fatto sta che adesso Vediamo comunque Con K Eccoci qua THQ Nordic Nuo publisher Per loro Ci viene da chiederci A sto punto Perché allontanarsi Da Da Bandai Per Cioè Alla fine il gioco È molto simile Siamo d'accordo Pensavo che L'allontanamento Fosse dato dal fatto Che Bandai imponesse Il gioco coop L'hanno fatto comunque coop Potrebbe essere Una questione di Peggy Perché comunque Sembra molto più crudo Forse volevano andare un po' oltre Ma Little Nightmares Aveva Scusate Quella Quella vena lì Ce l'ha sempre avuta Tanto Quindi Andiamo Andiamo avanti E vediamo Qui Se la rivendicano E manco poco Questo sembra un agnellino No? Almeno Creda Niente più Per sempre Quanto Quanto assomiglia All'arrivo Alla Pale City Di Little Nightmares 2 C'è tantissimo Non solo per Proprio per Questi palazzi oblunghi Quasi no? Ma anche Tra l'altro Se vi ricordate Nello scontro Tra Mono E l'Uomo del Cappello Diciamo così Quando i palazzi Iniziano a piegarsi Che lui si proietta Verso la torre Della parabola Praticamente È come se fossimo In quella via Incavata Con il fiume dentro Praticamente È tanto simile È bello È anche graficamente Più Più sostanzioso Si vede Anche perché È palesemente Un altro titolo Ok? Quindi Ci sta Però è La vibe assurda Vediamo Tra l'altro Navi quasi Schiantate È molto strano Sto posto È sempre Molto onirico Come sempre E sono due Adesso li guarderemo Meglio appena possiamo Scalata Con lei sola Che ha la luce Credo sia una lei E lui Gabbiani O comunque uccelli No? Dal trailer iniziale Col maiale Che parlava Qua L'agnellino L'agnellino Peso Peso Mamma mia ragazzi È cruel Eh Probabilmente È questo il motivo Cioè su Little Nightmares Non potevi arrivare A fare sta roba Poteva essere un peluche Non può essere Veramente un capretto Vero Bello Guardate qua Anche l'inquadratura Dal pozzo Sottostante Con le pietre Che cadono Ci hanno una cura Per queste cose Assurda Sono proprio loro C'ha delle cornette Sta Sta bambina Mamma mia Sono tanti Tra l'altro Però quanto fa Little Nightmares Guardate Testa a cono Secchio Cappuccio In generale La tipa Credo con la luce Forse loro Sono traghettati Da loro Da questa Da questa gang Lì una Una boa Questo è bellissimo Questo ragazzi Cioè Palesemente Little Nightmares Proprio Guardate Uomini deformi Luoghi Più o meno Noti Insomma Del Del mondo Cioè Diciamo Luoghi Tipici La canta È bello E guardate Che si trascina Tipo un corpo Dietro Avete visto L'ha preso Per le gambe Lo porta via Sì È una bambina Un bambino Due frate Oddio Potrebbero essere No Brother and sister Com'è che diceva Scusa Brother and sister Sì Bambino Bambino Qui Tanto orfanotrofio In stile Le fauci Ovviamente Con Letto Sfungiato E Parecchio caos Potrebbe essere L'interno D'una nave Quasi Di quelle che abbiamo visto Ormeggiate lì Questo è bellissimo Questo cos'è Cosa rappresenterebbe Tipo un Un verme di mare Cos'è Hanno una maschera Tipo da Da chizune Questa Non so Sembra un volpino Se zoomassi Lo scoprirei Questa ragazzi È Una citazione Palese È palesemente Alla spiaggia Dico Ma proprio Cento per cento Cioè guardate anche qua Guardate Guardate questo Sul costone di roccia Così Guardate Certo Deforme Oscura Ma è quella Palesemente Una luce Sempre una luce guida La barchetta Questa è la stessa No Io in realtà ho capito Aspettate un attimo Torniamo indietro sul mostro Non è la capra Vero? Perché sembra quasi lana Questa qui Non è la capra Che si sta No però no Oh c'è una cosa Nel buio però Eh non si capisce Sembra quasi un Coso ragno Tipo Sì È brutale Guarda L'effetto di luce Come lo fanno loro È sempre bellissimo La fotografia Questo ovviamente Ci ricorda La scena dell'ospedale Se ve la ricordate Molto Il maiale Che abbiamo visto Nell'intro Qui Non Cioè Gli uomini anche Ci sono uomini Deformi Ma anche animali A sto giro Ma è interessante Questo è Pazzesco Cioè Sembra Sembra una citazione Tipo la zattera Della medusa Cioè È incredibile È incredibile Bello proprio Con lei che sta Aspetta Ha tirato un arpione Un bestione Con le mani Che sta laggiù Sì vedete Ci sono tipo Delle Delle cose in occa Con le mani Più dita del dovuto Questo è incredibile È tipo il clown Sul monociclo Ma fa paura Veramente Guarda Assurdo Sembra veramente La pecora Che si è deformata E poi qui C'è un bambino Cosa sono Sti cosi Sembrano teste No Guardate le mani Bellissimo Questi Questi piani Così Questo ripeto L'abbiamo vista Già cento volte Sì Secondo me È una questione Proprio di Licenze artistiche È molto più crudo I Little Nightmares Guardate ragazzi Sembra un uomo Stirato sulla strada Questo Sono proprio dei Come delle pelli umane E viscerate completamente Di cui rimane solo L'esterno È un po' appeso Guarda Che escono proprio così Questo ovviamente Però ci ricorda tanto Il passato Aspetta Veniva posseduta Sì eh Palesemente Gli dice ancora una cosa Che non ho capito Wake up Svegliati Ok Con i tizi Della gondola Di prima Parlano Sì È vero Ora parlano E questa raga È tipo Cioè praticamente In tutto il trailer Abbiamo visto La capra Da così Ok A così Dove siamo? Qua È un po' Evoluta Durante tutto il trailer Quindi Probabilmente Questa sequenza Ci fa vedere Dall'agnellino Che era innocuo Sfruttato Fino a Sta bestia Da soma Che è il boss Finale Almeno dell'area Sicuro Guarda Mille braccia Sarà tutto Anche magari Un discorso Sulla clonazione Immagino Gli esperimenti Genetici Bellissimo Eh I saw you were dead Gli ha detto No Cioè Ti ho visto morire No O forse in sogno Ho visto che tu eri morto Reanimal Wow 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 ragazzi Cavolo Che bello Mamma mia C'era altro No Mi pare di no Non Purtroppo Non c'è Non c'è nulla Cioè Esce su pc Ok Magari lo prendo lì Solo ps5 Ci sta Ma graficamente Si vede che È su Che dire Cioè Incredibile Per me Ragazzi È Una delle cose più belle Che ho visto negli ultimi anni Proprio Sarà che sto appassionato molto Di sta saga Anche se non è più Però Avete capito Per me loro hanno proprio un gusto Nella Nella fotografia Quindi il gioco di luce La scelta esatta Del colore Ogni volta Cioè Mentre Per esempio Il 3 ha virato Completamente sul giallo Se vi ricordate Guardate qui Come cazzo Sembra Proprio Didascalicamente Il seguito del 2 Palese Non intendo a livello Temporale Perché sapete Che è un prequel Però Proprio Come evoluzione È proprio Quel blu lì È proprio Loro Sono loro È incredibile Io non so Se è lo stesso Director Che continua Non l'ho mai Non l'ho mai Studiato A sta cosa Ma è proprio Bello È proprio Bello Ragà Poi per carità Sarà il solito Legno da giocare Che bestemmieremo Sta cosa Dell'online Non La giustificavo Prima Non la giustifico Adesso Però attenzione Perché Nel Little Nightmare Che adesso Vediamo Ovviamente C'era un fatto Se vi ricordate Cioè Entrambi i ragazzini Hanno Una peculiarità Di abilità Che servirà Nella risoluzione Degli enigmi Qui non sembra Proprio Questa cosa qua Spero Nel cuore Che abbiano voluto Mettere Stacop Perché il public Li ha rotto i coglioni Ma tu Se vuoi fare la run seria Te lo devi giocare Da solo Stop Te lo devi giocare Da solo Sono sicuro Di questa cosa Perché Non puoi metterti A ridere Quando c'è Sta scena qua Capito E fai un maiale Non va bene Se è bello Giocato in single player Basterà dire Raga Va giocato in single Fine Stop Ok Passiamo A Little Nightmares 3 Ok Soprattutto in single player Grazie a tutti.